Non è un odontoiatra, osservando i profili di questi due individui, cioè di Jay Leno e di Robert Redford, noterà appunto che ci sono delle differenze nel profilo. L'uomo a sinistra, infatti, vedete che ha proprio un profilo, si dice in gergo tecnico bi-retruso, significa appunto che ha un profilo piatto. L'uomo a destra, invece, non ha un profilo completamente piatto e ha anche un volto, la cui crescita non si è strinsecata completamente in lunghezza, come nell'uomo a sinistra, ma un volto ben squadrato. Vedete gli angoli della mandibola come sono ben definiti? Chiaramente non ha un volto completamente piatto, ma mantiene comunque un certo grado minimo di protrusione. La differenza tra questi due individui probabilmente risiede proprio nella, diciamo, situazione anche dentale, perché l'uomo a sinistra avrà questo volto piatto e questo volto cresciuto anche eccessivamente in lunghezza per via dell'affollamento dentale. L'uomo a destra, invece, sicuramente avrà un organo della masticazione più congro, con dei denti molto più allineati di conseguenza, perché appunto le ossa che contengono i denti sono cresciute correttamente e quindi hanno permesso ai denti di rompere tutti quanti in maniera corretta. Grazie a tutti.